ciao a tutti e benvenuti da ombretta su arte per te oggi un video speciale in collaborazione con abilmente la più grande fiera della creatività in italia con abilmente partecipo al progetto aspettando abilmente in seno a questo progetto ho creato queste carinissime card e mi farebbe piacere se voleste vederle proprio sul canale di abilmente vi aspetto tutti un grande bacio al prossimo video